roma convegno strada alla vita venerdì 22 maggio 2015 ore 9 30 13 e 30 si parlerà del terzo programma d'azione della comunità europea per la sicurezza stradale e di progetti per l'educazione stradale di claudio martino ai fbs nella mattinata di venerdì 22 maggio 2015 dalle 9 30 alle 13 e 30 avrà luogo presso il palazzetto delle carte geografiche via napoli numero 36 roma a pochi passi dalla stazione termini un convegno dal titolo strada alla vita l'evento è stato organizzato dall'associazione mamme coraggio e vittime della strada onlus in collaborazione con la i fbs associazione italiana familiari e vittime della strada ed altre associazioni alcune aderenti alla rete vivi in strada numerosi di numerosi gli interventi previsti e gli argomenti che verranno affrontati il perno attorno al quale ruoteranno tutti i contributi anche video saranno il ruolo della comunità europea nel campo della sicurezza e prevenzione stradali e la progettazione di interventi in italia finalizzati a recepire quanto di valido viene proposto ed offerto dalla comunità europea per favorire la cultura della strada e l'educazione stradale nonostante sia ignoto al gran pubblico e di fatto venga ignorato dalla classe politica italiana la commissione europea il 2 giugno 2003 adottò infatti il terzo programma d'azione europeo per la sicurezza stradale che fissava come obiettivo il dimezzamento del numero di vittime della strada entro il 2010 e conteneva 62 proposte di azioni concrete nel campo della sicurezza dei veicoli delle infrastrutture e degli utenti per il pomeriggio dello stesso giorno è fissato altresì alle ore 17 sulla scalinata del palazzo delle esposizioni via nazionale 194 un appuntamento per una foto ricordo di gruppo nonostante